Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, mercoledì 1 giugno, si venera San Giustino. Giustino, che spesso si dichiarava in verità samaritano, visto il suo nome e il nome di suo padre, era di origini latine. Giovane e quieto aveva cercato attraverso lo studio della filosofia la verità e con essa la felicità, senza peraltro raggiungerla. Si ritirò nel deserto dove incontrò un vecchio saggio al quale confidò i suoi tormenti. «Leggi i profeti, leggi il Vangelo, gli suggeri il vecchio e troverai quello che cerchi». Giustino li lesse la grazia di Dio, gli illuminò la mente, gli riscaldò il cuore. Giustino non rinnegò per questo la filosofia, anzi trasse da essa motivi per dimostrare la ragionevolezza del cristianesimo. Lo fece scrivendo una celebre apologia e sostenendo accesi dibattiti con i più filosofi del tempo. L'eco della sua attività giunse all'orecchio del prefetto di Roma, impegnato in una dura persecuzione contro i cristiani. Così Giustiniano venne processato. «Ho studiato tutte le scienze, ma solo nella dottrina che i cristiani religiosamente seguono ho trovato la verità», rispose al prefetto che lo interrogava. E poiché non si scostò di un passo dalla professione di fede pronunciata, venne condannato a morte. Fu decapitato dopo aver subito il tormento e l'ingiuria della flagellazione. A Giustino si deve la più antica descrizione della liturgia eucaristica. Egli fu il primo ad utilizzare la terminologia filosofica nel pensiero cristiano e a conciliare fede e ragione. Il corpo del santo riposa attualmente sotto l'altare maggiore della collegiata di San Silvestro Papa a fabbrica di Roma. Apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che in apertura parla di crescita, spinta di visco sulla ripresa. Il governatore e le banche taglino costi e sportelli. Serve una svolta in Europa, ora più investimenti e meno tasse sul lavoro. Disoccupazione su, ma creati 51 mila posti. In centropagina la vignetta, Giannelli, spuntano segni di ripresa. E poi ancora i crediti dubbi, rapporto di Francoforte e l'esperimento di Parma, il ritorno della borghesia. Sviluppo e ricette, quell'Italia esitante ed ancora la fotonotizia, calcio in vendita, va avanti anche la trattativa sul Milan. L'Inter ai cinesi di Suning, via Moratti, Toir al 30%. In breve vediamo ancora Palermo, intercettazioni, caso Mancino, ispezione sui PM. E poi l'esposto di Guerini, il PD escluso da Ballarò e fa ricorso contro la RAI. Nel taglio basso, io, mia figlia Sara e la gelosia di Vincenzo, la madre della ragazza uccisa, chiamava ogni 10 minuti e ha detto, mai stato violento. Il Tribunale di Milano, test post mortem sul DNA del padre, e il referendum inglese, Brexit, il piano Berlino-Parigi. Passiamo alla Repubblica, migranti, accogliere tutti, la CIE contro il Viminale, parla Galantino, no agli hotspot in mare, Bruxelles, chiarire sul piano. E in centro pagina, l'intervista al giornale USA, Trump, che dichiara, non volevo incontrare Salvini. Vediamo ancora Visco, la UE troppo rigida sulle banche, e nel taglio basso l'inchiesta sui crediti etruri all'affare d'oro, subito prima del crack. Passiamo al fatto quotidiano. Così lo scafista ci ha chiesto i soldi, poi ci ha buttati in mare, i verbali, i superstiti dell'ultimo naufragio e il potere di vita e di morte dei trafficanti, tutti i buchi della politica UE, che affoga con i migranti. Il referendum in centro pagina consulta il giudice tifoso del ZI, indagato per concorsi truccati, chiusa l'indagine su Augusto Barbera, ultra della riforma Boschi. E poi l'inchiesta dopo l'omicidio di Roma, tutte le altre Sara uccise da silenzio e indifferenza. In breve vediamo la relazione, nel caso Etruria & Company, visco assolve la sua vigilanza e come eravamo, il 46 del Bouguoyg e dei veri padri costituenti. E poi ancora il titolo povera destra, ridotta a santificare i due Marò. Vediamo nel taglio basso, ecco i comitati ricacciagli 80 euro, abbiamo scherzato proposte per restituire la lauta mancia. Andiamo al mattino, l'assassino ha sempre una scusa, femminicidi attenuanti facili, anche quando c'è stata la premeditazione. E poi l'appello, vediamo interdetto per 5 anni, ho aumentati i risarcimento schettino, confermati 16 anni, l'antimafia ancora impresentabili, la metà si candida a battipaglia. Nel taglio basso, dal mondo Israele, il nuovo partito dei conservatori e poi il fantasma Sturaro al posto di Giorginio. Passiamo al libero, che apre con vittime di chi predica l'accoglienza, in 10 anni 25 mila morti. Abbiamo calcolato quanti immigrati sono deceduti in mare, bisogna scoraggiare le partenze, un modo c'è pure il Daila Lama. Ora prega, basta arrivi, l'Europa è piena, ma Bruxelles ci lascia soli, anzi ci rimprovera. E sbarcano anche in Inghilterra e cresce il numero degli anti-UE a pochi giorni dal referendum. In centropagina, la fotonotizia, la RAI conferma, la Isoardi, la Morosa di Salvini e Salva. Cos'hanno in più dei giovani e perché le aziende li assumono? Imparate dai cinquantenni a trovare lavoro. E poi ancora, vediamo all'interno, se di notte penso ai bimbi annegati, non chiudo occhio. Politici lontani dalla realtà e poi il reportage dalla provincia, viaggio tra il popolo alla strenua ricerca di un Renzi di destra. E vediamo ancora il derby Inter Milan e vendere ai cinesi per primi è meglio. Ancora in breve, l'Inps taglia lo stipendio ai maestri all'interno su Libero. Passiamo all'unità, un'assunzione tira l'altra, Istat ad aprile, più 52 mila occupati, da febbraio 2014 ci sono 450 mila posti di lavoro in più, visco bene il governo, male l'Unione Europea e Bellanova. Ecco come ho salvato i 3 mila di Alma Viva. E la fotonotizia in centro pagina, così li salviamo, storie e drammi lungo le rotte della Libia. E poi ancora, raggi contro Roma e lo sport, criminali, le Olimpiadi. Passiamo al tempo, il quotidiano indipendente apre con ecco perché non ho salvato Sara, parla il super testimone, ero in moto con la mia ragazza, ho visto i due litigare e ho proseguito, tornando a casa ho notato quell'auto bruciata ed ho capito, sì, mi pento di non essermi fermato. in centro pagina, confronto alla romana, dalla sicurezza alle buche, dalla corruzione ai rifiuti, lo scontro dei candidati su Sky regala poche emozioni. E in breve vediamo l'inchiesta, metro in sciopero, da inizio anno chiusa 428 ore. Roma nel caos, immondizia, la raccolta dei rifiuti è peggio dello sciopero ed ancora immigrati vicini alle volanti garage della polizia come i campi profughi. E lo scrittore antisaviano, vi svelo tutte le bufale raccontate in Gomorra. I monaci salutano le tigri d'oro narcotizzate per consentire la foto ai turisti a pagamento. Avvenire il fatto milioni di schiavi che non vediamo, lavoro forzato e prostituzione 130 mila in Italia. E poi la fotonotizia lo sfruttamento che sta soffocando il mare del Cile. Investimenti e tagli fiscali per spingere la ripresina. E il gazzettino, vediamo, credito Veneto Banca, chi perde di più il CDA, fissa il prezzo tra 0,1 e 0,5 euro. Ecco quanto è costato il tonfo del titolo. ha i 200 principali azionisti. Il Fondo Atlante è pronto a sottoscrivere l'aumento fino a un miliardo e avrà il 50,1% del capitale. Il rapporto, vediamo più persone in cerca di lavoro, ma ad aprile 51 mila nuovi posti. E poi la droga in Veneto parla straniero, il 57% dei denunciati è immigrato. lo vediamo nella fotonotizia. In breve la sentenza, schettino, 16 anni in appello, nessuno sconto, e poi Padova, insulta gli extracomunitari, indagata, apologia di crimini contro l'umanità. Agricoltura, Prosecco, un supermarchio doc per i produttori di Veneto e Friuli. Il manifesto che apre con la fotonotizia Tour de France, vediamo, si parla di logoramento e poi canale di Sicilia rotta letale, in una settimana, 880 morti. Ora, andiamo al secolo XIX, vediamo in centropagina la nuova condanna per la tragedia della Concordia, niente sconti a schettino, 16 anni in appello, e poi ancora Visco, sferza le banche, tagli ai costi, il numero 1 di Banca Italia e la ripresa, dichiara ridurre sportelli e dipendenti e chiede più investimenti pubblici. Il futuro della regione si gioca sulla sanità, il primo anno del governatore, e l'intervista e stiamo a Genova. E poi in breve, bruciata viva dall'ex, Sara rassicurava le amiche lui non mi farà nulla e il corteo a 20 miglia, in 15 giorni, mille migranti respinti al confine. La gazzetta del mezzogiorno, vediamo nel taglio alto, Bari, fondi dal governo, nuova vita per i quartieri e ancora trasporti, anche privati in campo per prendersi le sud-est. In centropagina, Renzi torna rottamatore. Troppi politici in Italia, se vinco il referendum, resto fino al 2023 e visco Banca d'Italia, occorrono più investimenti e meno tasse. Ed ancora, altro decreto per l'ILVA, si allontana l'accessione, Istat disoccupazione in Suma, crescono gli occupati e poi sulla sanità, pronto soccorso in Puglia, arriva la chiusura estiva e il decreto a tutela del latte italiano, mozzarella, burro e formaggi, avranno l'etichetta di origine. Ed ora, passiamo al messaggero, vediamo la prima pagina che apre con Visco, investimenti per crescere, in apertura del messaggero, il governatore di Banca Italia, ripresa lenta, nonostante BCE e governo, si può fare di più, vanno tagliate le imposte sul lavoro e le banche devono ridurre dipendenti e sportelli. Vediamo la foto di Sara minacciata per giorni, mi farà qualcosa di brutto. Ed ancora Roma, si accende la sfida a 5, scontro su legalità, rifiuti e tasse, i candidati sindaco su Sky, la GAF di Raggi sulle Olimpiadi. Vediamo in breve tutti i rappresentanti civici, antimafia, trovati 14 impresentabili, 5 nelle liste elettorali romane. Entriamo all'interno, vediamo quindi in primo piano l'evento Roma, sfida a 5 in tv, scontro sulla legalità, il confronto a Sky TG24, per la prima volta si presenta la Raggi e Grillo la chiama. Il match si scalda solo su Mafia Capitale, le ricette dei candidati su bilancio e tasse. Ed ancora, che città sarà? Dalla sicurezza alle buche, qualcuni dei principali temi sul programma affrontati dai candidati, domande uguali per tutti, e stesso tempo per offrire una risposta. Nel taglio basso il caso, le Olimpiadi criminale, parlarne la GAF con retromarcia della Raggi. Ancora vediamo antimafia, ecco i 14 impresentabili, 5 i romani, 1 in corsa per il Campidoglio, 7 a Battipaglia e 2 in Calabria. Il candidato sindaco di Casa Pound, arrestato nel 2013, la Commissione, vota all'unanimità, all'elenco, tutti gli esponenti di liste civiche, Bindi, le cosche le usano per entrare nell'amministrazione. E poi l'intervista di Francesco, che dice, gli indagati con me sono il nuovo Spartaco. Il focus, vediamo nel taglio basso, capitale senza anticorpi, contro il crimine e Marino non è stato in grado di tutelarla. E a Napoli, in breve, vediamo nel taglio basso, pressioni sui vigili, bufera su De Magistris. Andiamo ancora avanti, Visco, ripresa lenta e per la crescita nuovi investimenti, giù il cuneo fiscale. Ed ancora, la relazione, il tagliare sportelli e dipendenti e la vigilanza non interferisca nelle considerazioni una critica diretta alle ingerenze degli sceriffi di Francoforte. Un errore non ricorrere agli aiuti di Stato come strumento di prevenzione delle crisi. Il caso, vediamo, si profila nuova tegola da 1,5 miliardi sulle banche del fondo di risoluzione. Il nuovo impegno nasce dal rischio di una cessione delle quattro banche a valutazioni sotto le attese. e ancora in primo piano Renzi la giornata di ieri se vincono i sì un politico su tre a casa il premier con sala a Milano ecco perché in Parlamento sono tutti contro il referendum e in cassa il sostegno sulle riforme di Coldiretti il leader scherza sono arrogante lo riconosco e aggiunge se vinco avanti fino al 2023 la minoranza anche oggi toni sbagliati e poi la denuncia vediamo in breve Guerini alcuni circoli in mano ai capi corrente in centropagina la fotonotizia inaugurata la mostra Montecitorio 70 anni di voto alle donne e poi la tv pubblica esposto del PD noi esclusi da Ballarò e Porro lascia la Rai è polemica ancora vediamo in primo piano la storia Sara Minacciato per giorni mi farà qualcosa di brutto aveva detto secondo gli inquirenti Paduano aveva premeditato l'omicidio della ragazza lei nascose alla madre i messaggi sms dell'ex fidanzato per non spaventarla la vicenda quindi le minacce sul telefonino gli appostamenti per spiarla l'attesa sotto casa l'aggressione e l'omicidio e l'inchiesta dubbi sul racconto del killer forse bruciata già morta dai primi accertamenti risulta che Sara aveva ossioni solo sulla schiena non si è difesa nessuna traccia delle fiamme sulle mani l'assassino era senza cellulare per non essere tracciato l'ipotesi che usasse una app per spiare la vittima ed ancora vediamo dal mondo l'emergenza migranti la UE avverte presso sanzioni ai paesi che non li accolgono Bruxelles sollecita il ricollocamento in otto mesi trasferito solo un profugo su cento critiche all'Italia sugli hotspot galleggianti il caso vediamo ancora batterio killer nei Vriustel un morto in Germania e poi l'appello del Dai la lama vediamo troppi rifugiati in Europa tornino a casa ha detto la minaccia poi nel taglio basso terrorismo allarme USA rischioso andare in Europa il Dipartimento di Stato lancia l'allerta per l'estate ma i servizi italiani assicurano nessun segnale specifico Schettino tra le cronache confermata la condanna in appello oltre a 16 anni di reclusione aggiunta una pena cessoria 5 anni di interdizione dalla professione marittima l'ex comandante ha atteso la decisione chiuso nella sua casa Sorrento sono innocente ha detto voglio dimostrarlo in Cassazione il processo sono bastate 10 udienze inchiesta in 56.000 pagine e il procuratore Verusio che indagò sul naufragio ha detto la corte è stata mite meritava una punizione più severa e ancora tra le cronache vediamo Sicilia evasione record sottratti all'erario 23 miliardi in 8 anni la denuncia della società di riscossione le imprese della malavita non pagano tasse quelle oneste aspettano pagamenti per 12 miliardi e il magistrato il CSM taglia sui mesi di anzianità a Robledo confermato il trasferimento a Torino ma annullato il passaggio a giudice resterà un PM terremoto nuove scosse nell'Orvietano Umbria paura per lo sciame sismico ed ancora vediamo assenteismo al Ministero sei condannati per truffa i dipendenti di Castelo dei trasporti lasciavano il lavoro con vari stratagemmi chi usava beige rubati chi si infilava nei tornelli con altri denunciati dai colleghi Siena perquisizioni nelle scuderie cavalli truccati inchiesta sul palio e poi ancora il caso vediamo Caivano il presunto pedofilo ingoia una lametta in carcere l'accusato per la morte di Fortuna la piccola bimba tenta il suicidio in sala colloqui due settimane fa ci provò la compagna e il processo vediamo il PM nove mesi ai carabinieri per la morte di Magherini e pagina dedicata all'economia vediamo in apertura quindi il dato sale l'occupazione più gente cerca lavoro l'Istat ad aprile creati 51.000 posti nel mercato rientrati 113.000 inattivi che fanno salire la disoccupazione all'11,7% le persone impiegate cresciute soprattutto grazie agli over 50 con il petrolio e l'aumento delle sigarette migliora l'inflazione e poi vediamo nel taglio basso i profili 25 nuovi cavalieri del lavoro con farina di amato caselli e tabacchi e con la prima pagina dedicata all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni meteo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it Giovanni buongiorno 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 a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni quali sono gli aggiornamenti? ecco diciamo che il tempo sta peggiorando lo avevamo già parlato nella giornata di ieri e nei giorni scorsi perché la nostra penisola è ancora interessata da una vasta circolazione depressionaria posizionata sull'Europa centrale che convoglia masse d'aria fresca ed instabile provvedente dalla Francia e queste masse d'aria fresca nelle prossime ore favoriranno un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione peggioramento che si manifesterà soprattutto dalla tarda mattinata e nella seconda parte della giornata perché ovviamente con l'arrivo dell'aria fresca si formeranno degli addensamenti degli annumolamenti e ci sarà spazio a dei rovesci e a dei temporali che inizialmente interesseranno le zone interne le zone montuose per poi estendersi nel pomeriggio sera anche sul versante orientale non si esclude localmente qualche temporale anche di una certa consistenza quindi i fenomeni poi entrosera raggiungeranno anche la fascia costiera per poi attenuarsi temporaneamente dalla tarda serata e nel corso della nottata però insomma l'instabilità continuerà ad interessarci anche nella giornata di giovedì perché continueranno ad affluire masse d'aria fresca che favoriranno anche una graduale diminuzione delle temperature ma manterranno attive condizioni di stabilità quindi con il passare delle ore nel corso della tarda mattinata nel pomeriggio poi nel pomeriggio sera torneranno a svilupparsi dei temporali dapprima sulle zone interne montuose per poi nuovamente estendersi complici le correnti favorevole anche sul versante orientale della nostra regione con fenomeni localmente ripeto localmente anche di una certa consistenza quindi questa situazione lì si continuerà a riproporsi probabilmente anche nella giornata di venerdì pur con una situazione con fenomeni meno frequenti però insomma la nostra penisola continuerà sempre ad essere sotto la scia di queste correnti fresche ed instabili che con tutta probabilità favoriranno ancora degli addensamenti dei fenomeni anche nel corso del fine settimana questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti però per la tendenza per il fine settimana ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti Elisa certo grazie Giovanni come sempre buona giornata e buon lavoro grazie Elisa una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo facebook personale di Giovanni De Palma potete così postare commenti porre domande quindi essere sempre aggiornati soprattutto in tempo reale sulle condizioni meteorologiche ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco seconda parte di mattino 6 passiamo alle notizie regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il centro vediamo la pagina dedicata alla provincia di Pescara in apertura prof di 34 anni muore in Turchia il pescarese Angelucci precipita in un burrone lavorava all'università in centro pagina invece la fotonotizia stasera in 16.000 all'Adriatico Pescara la finale ti aspetta i biancazzurri difendono il 2 a 0 con il Novara a Trapani promosso e nelle cronache invece presa a pugni rapinata nel suo camper nell'area di Risulta e ancora in Pescara in via Battissi tornano l'isola e le proteste niente auto di notte sì al concordato l'ACA paga 38 milioni di vecchi debiti passiamo alla prima pagina dedicata alla provincia invece di Chieti Lanciano e Basto vediamo in apertura la tragedia prof di 34 anni muore in Turchia Angelucci precipita in un burrone lavorava all'università d'annunzio la foto in centro pagina ed ancora dai rubinetti esce Legionella in Chieti la scoperta in ospedale dopo la morte di una paziente in Basto invece vediamo rubano gasolio in un'azienda presi tre ladri in Ortona è un errore chiudere anche la pediatria questa è la reazione in Lanciano ancora sei domande i candidati di Lanciano verso il voto ed ora prima pagina dedicata alla provincia di Teramo vediamo in apertura vediamo la prima pagina appunto dedicata a Teramo eccola dal centro rapinata in casa da finti medici a Montorio vittima un'anziana l'hanno immobilizzata su una sedia in centro pagina l'emergenza sbarchi in provincia arrivano altri 110 migranti ora sono 600 e il giovane prof che muore in Turchia docente pescarese dell'annunzio precipita in un burrone tra le cronache invece vediamo in giunzione da 8,5 milioni contro la ASL per il parcheggio la vertenza le cambiano la serratura dell'ufficio ed ancora vediamo in Roseto degli Abruzzi verso il voto Roseto oggi forum con i tre candidati ultima prima pagina quella dedicata a l'Aquila Avezzano e Sulmona vediamo in apertura Palazzo in Fiamme un attentato ad Avezzano e l'immobile dell'alloggio occupato sgomberate 24 famiglie in centro pagina vediamo la fotonotizia appunto del Palazzo in Fiamme poi nel taglio basso il giovane prof che muore in Turchia e invece in breve tra le cronache vediamo in L'Aquila maltrattamenti in classe assolto l'insegnante ed ancora inchiesta truffa di sequestro per corridore e in Sulmona invece in 22.000 vanno al voto guida ai servizi ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo la prima pagina eccoci prima pagina del quotidiano appunto la città che apre con lo scontro sulle intercettazioni PM giudice divisi sull'utilizzabilità e sull'enità del sequestro al gruppo e torre femminicidio in centropagina Arsita Piange Sara la famiglia della ragazza bruciata viva e della Valfino e poi ancora Nereto in crisi come Tortoreto prende forma il gruppo dei dissidenti in maggioranza in breve Giulianova Polfer sgombera banca occupata dai rumeni Notaresco Cirsu via libera rifiuti organici dopo quattro mesi e ancora anche Bellante in trappola con la Parcondicio violata la legge in basso vediamo vino e tradizione cotto d'amore da unite parte l'idea d'OCG per il vino cotto teramano entriamo all'interno vediamo la pagina dedicata alla regione che apre con la tragedia in Turchia muore ricercatore pescarese la vittima Alessandro Angelucci è precipitato in un burrone da un'altezza di 15 metri vicino Istanbul potrebbe essere la causa della caduta le scarpe bagnate il corpo trasferito nella capitale turca per l'autopsia disposta dal magistrato per accertare la dinamica dell'incidente mortale e su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante sono state forse le scarpe bagnate o più probabilmente una disattenzione a causare la morte di Alessandro Angelucci 34enne professore pescarese di storia bizantina all'università d'annunzio di Chieti che ieri pomeriggio è volato giù da un burrone per 40 metri in Turchia dove stava effettuando un'escursione nella zona naturalistica di Cocali 200 chilometri a sud-est di Istanbul è successo tutto in pochi istanti Alessandro stava bevendo da una bottiglietta d'acqua poi ha fatto un passo ed è caduto e il racconto di una testimone una ragazza a zera che si trovava a poca distanza da Angelucci al momento dell'incidente in Turchia il professore pescarese era giunto venerdì come group leader in un progetto sulla prevenzione dalla dipendenza delle droghe che ha riunito 35 persone di diversa nazionalità l'escursione a Karasau era tra le attività ricreative previste con lui dall'Italia erano giunti in Anatolia quattro giovanissimi partecipanti tre minorenni tra cui due ragazze ed un ragazzo e un 22enne originari del Viterbese a organizzare la loro partecipazione al progetto della ONG turca Karjenk è stata l'associazione Prometheus di Viterbo i quattro ragazzi che come gli altri membri del gruppo hanno ricevuto assistenza psicologica dopo l'incidente dovrebbero rientrare in Italia domani per Alessandro Angelucci invece si dovrà aspettare l'esito dell'autopsia disposta dalle autorità giudiziarie turche che si svolgerà a Istanbul poi ci sarà il rientro in Italia in Abruzzo e sui trasporti vediamo revocato lo sciopero regionale del 10 giugno era stato proclamato dalla Filt CGL e nel taglio basso Chieti Legionella nei rubinetti dell'ospedale scattano i test sui pazienti le verifiche sono scattate dopo la morte di un'anziana alle unità operative consegnato un vademecum con le precauzioni ancora vediamo il femminicidio alla Magliana Arsita piange la giovane Sara di Pietrantonio la famiglia della ragazza bruciata in macchina dal suo ex fidanzato era originaria della Valfino come il nonno il padre e tanti abruzzesi trapiantati nella capitale da piccola tornava spesso in Valfino per le vacanze ed ancora la notte rosa di Unite Pink Teramnia apre con un convegno su donne e società la querella nel taglio basso multipiano ingiunzione di pagamento da 8 milioni primo atto della causa civile tra l'ati privata e l'asl di Teramo sul parcheggio dell'ospedale appunto vediamo ancora la crisi in comune predissesto contraddizioni in commissione il sindaco prima rassicura poi annuncia la volontà di percorrere il riequilibrio ma i pareri tecnici sono inequivocabili la parola predissesto viene accuratamente evitata nella relazione del sindaco sul conto consuntivo e quello preventivo numero legale meno male che Milton c'è il presidente a sedere in commissione per garantire numero legale poi i pareri tecnici per la dirigente delle finanze per i revisori dei conti al comune serve un riequilibrio tradotto e predissesto e anche su questo articolo ci fermiamo perché ieri appunto si è svolta la commissione bilancio ma c'è anche tanta attesa per l'annuncio di quale sarà la nuova giunta il servizio nel corso nel corso della seduta odierna della commissione bilancio la verità sul modo di amministrare della giunta a Brucchi secondo il Movimento 5 Stelle è finalmente venuta a galla con l'aiuto del parere dei revisori dei conti la situazione di cassa del comune è talmente drammatica che sia il dirigente finanziario che i revisori dei conti consigliano una procedura di riequilibrio finanziario cosiddetto predissesto la quale potrebbe portare solo benefici parole del dirigente all'ente comunale se non si seguirà questa strada afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini le future amministrazioni non saranno in grado di governare a causa del grosso debito lasciato da Brucchi e dai membri della maggioranza e intanto c'è attesa per l'annuncio della nuova giunta dopo il tavolo politico previsto per domani sera Sindaco in attesa del terzo tavolo politico ha le idee più chiare? Guardi io le idee chiare diciamo ce le ho avute sempre è chiaro che c'era necessità di questo confronto io devo dire che questo tavolo politico è stato davvero un tavolo politico proficuo che ha focalizzato la problematica e si è adoperato per risolverla le liste mi avevano chiesto qualche ulteriore giorno per poter fare gli approfondimenti e gli è stato concesso mi sembra di capire che tutti dico tutti nei documenti di ognuno delle liste dei partiti c'è la voglia di andare avanti di evitare il commissariamento e poi l'organigramma è chiaro che la sintesi tocca farla al sindaco mi hanno chiesto discontinuità e c'è stata è stato chiesto azzeramento della giunta e c'è stata è stato chiesto una rivisitazione aria fresca e ci sarà per cui tutto quello che mi è stato chiesto in qualche modo io consapevolmente ho portato avanti l'annuncio l'annuncio entro settimana sì sì sicuramente entro questa settimana non possiamo più aspettare nella giornata di oggi diciamo assemblo un po' questo programma questa piattaforma programmatica domani sera alle 7 e mezza alle ore 19 la ripropongo a tutti i partiti e poi passiamo alle liste e poi passiamo alla fase dell'organigramma il clima è sicuramente sereno è un clima che prelude secondo me a un rinnovato entusiasmo anche a uno slancio di ripartenza che forse è mancato negli ultimi mesi negli ultimi anni è un segnale secondo me anche a garanzia di quello che è il bene comune il senso di appartenenza insomma si sta recuperando secondo me una lettura anche complessiva che ci aiuterà a concludere bene questo mandato sempre dal quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo nel taglio basso si imbottisce di barbiturici e tenta il suicidio salvata in zona Castello dall'intervento tempestivo dei carabinieri è ancora giudiziaria l'autopsia non chiarisce la morte il caso dei 31 medici indagati andiamo ancora avanti il gruppo Ettore scontro sulle intercettazioni PMG in disaccordo sulla loro utilizzabilità udienza d'appello per il sequestro rinviata al 9 giugno la precisazione la CGL dato all'ex assessore Morra di essersi attivato subito dopo le segnalazioni sulle anomalie degli appalti ARPA e GTM la società per il gruppo Ettore l'inchiesta in atto della magistratura sarebbe solamente una verifica fiscale che sarà contestata e associazioni ancora Antonella Ballone prima donna al vertice del gruppo di Confindustria il cordoglio vediamo a San Nicolò i funerali del fotografo Marcattili si sono svolti ieri nella chiesa di San Francesco d'Assisi a San Nicolò a Tordino appunto i funerali di Gabriele Marcattili fotografo professionista venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica dopo un breve quanto incensurabile una breve insomma malattia passiamo alle notizie della provincia Pietracamela ha bisogno di un sindaco Michele Petraccia vuole chiudere la parentesi del commissariamento rilanciando montagna e turismo in caso di vittoria i primi interventi di Petraccia sarà quello relativo alla ricostruzione post-sisma non solo per l'indotto ma anche per permettere ai cittadini di tornare in paese e a Campli si infiamma la polemica tra i democrat farnesi ancora bellante anche bellante viola la par condicio col battesimo civico di domani dopo Roseto un'altra amministrazione viola appunto il divieto di comunicazione istituzionale anche se il sindaco non è candidato e raggirata vediamo Montorio rapinata da due finti medici anziana fa entrare in casa due truffatori mentre un complice le porta via il corredo e i preziosi Teramo sindacale la Comifar pronta nuovi investimenti nel polo di Sant'Atto positivo il tavolo delle relazioni industriali che si è svolto lunedì in provincia alla presenza delle sigle sindacali vediamo ancora a Nereto anche Nereto ai suoi dissidenti l'ex vice sindaco di Felice e Mistichelli formano il gruppo direzione futuro appoggio esterno i dissidenti fanno sapere di continuare ad appoggiare il sindaco purché si rispetti il programma e l'intervista vediamo la stagione estiva parte con il piede giusto a Tortoreto i finanziamenti Ancarano la regione Abruzzo investe su Ancarano appunto la soddisfazione del capogruppo di civicamente Pierangela di Giosia nella foto ed ancora a Giulia Nova sgomberati i locali della ex banca blitz della Polfer per liberare le stanze occupate abusivamente da 11 rumeni i locali sgomberati dagli agenti confinano con la nuova sede della banca giuliese e sempre a Giulia Nova si apre oggi il festival delle bande e domani invece l'evento sui disturbi alimentari all'annunziata Biale Orsini il sindaco corregge un refuso e salva i pini non le radici Mastromauro tranquillizza nel comunicato ci riferivamo alle radici non alle piante ed ancora notaresco il polo di Grasciano riapre all'organico la regione dispone la revoca del provvedimento di sospensione di gennaio quantità limitata per il momento sarà possibile conferire una quantità di organico limitata appunto di 35.000 tonnellate l'anno Roseto i migranti possono essere una risposta per la nostra Roseto ed ancora elezioni Ciancaione incontra costruttori e mondo del turismo il candidato sindaco tavolo tecnico per rendere Roseto una località d'eccellenza la cultura vediamo per l'estate in arrivo jazz e funambolica 79 anni Teramano di Nascita fondatore del festival internazionale pescara jets fumo ha portato in Abruzzo veri e propri mostri sacri ed ora passiamo al torniamo scusate al messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo appunto vediamo in apertura le notizie le notizie regionali vediamo la prima pagina che apre con la tragedia dell'escursionista appunto il tragico volo nel burrone in Turchia escursione maledetta la vittima è il docente universitario pescarese Alessandro Angelucci guidava un gruppo di studenti nell'Erasmus la mamma sconvolta non ci posso credere e ad Avezzano rogo da incubo nella casa popolare poi ancora allarme legionella al policlinico una maxi bonifica chiedi il batterio scoperto nei rubinetti misure immediate dell'ASL dopo la scoperta e la fotonotizia i playoff semifinale di ritorno tutto esaurito all'Adriatico Pescara Novara attrazione finale e la nomina come abbiamo visto Confindustria alla ballone presidente Giovani Teramo nel taglio basso l'Aquila lavori all'emiciclo e si pensa al nuovo vediamo le prime pagine dedicate alle province Pescara che apre con il docente pescarese che muore in Turchia e poi il cordoglio del professor Trinchese uno studioso colto e appassionato vediamo all'interno il nuovo centro-destra avvolta le spalle a Chiavaroli nasce Pescara in testa clamoroso strappo dei consiglieri comunali ribelli il gruppo cambia nome con dure critiche a sottosegretario il retroscena Federica aspettative insoddisfatte ACA ha approvato il concordato ed ancora il verde ritrovato via le dei Pini pronti 37 nuovi alberi con il via libera della sovrintendenza e ancora tra gli eventi come abbiamo visto prima Jets e Funambolica parata di stelle e ancora il colpo di scena Lucio Fumo spiazza tutti questo è il mio ultimo festival ha detto una decisione piena di amarezza di chi è stanco di affrontare mille difficoltà organizzative e le latari l'evasione pesa caccia ai furbetti ed ancora vediamo pagina dedicata all'Aquila in apertura Movida residenti il comune allarga le braccia il settore commercio risponde alla diffida degli abitanti di via Garibaldi nessun limite alla concentrazione dei pub i sopralluoghi dei vigili certificano che la colpa del rumore non è la musica nei locali bensì gli schiamazzi all'esterno in centropagine il tesoretto inutilizzato della ricostruzione sale a 55 milioni di Stefano scrive a Roma e poi l'attacco De Mattei si insiste non copre le spese hanno votato un bilancio falso il caso farmacia Santanza ok dal Consiglio di Stato respinto il ricorso dell'azienda che era arrivata a seconda nella gara per la per la locazione appunto e poi in breve Commissione Territorio Villa Gioia ok all'accordo di programma vediamo all'interno il provvedimento sbloccati da riesame i conti di Corridone accolta l'istanza della difesa e revocato il sequestro chiesto dalla procura la querelle vecchione deve tornare a Castellalmare di Stabbia ed ancora forestale in prima linea nasce il nucleo antiveleno la sentenza ancora assolto il prof nessun maltrattamento in classe Avezzano via Mattarella incendiata abitazione paura e scene di panico nella palazzina invasa dal fumo fiamme alte nell'edificio da poco sgomberato dalla polizia i residenti si riversano in strada carabinieri e vigili del fuoco scongiurano il peggio evacuate dieci famiglie con bambini e sempre ad Avezzano la donna morta a Spedino arrivano i risponsi dei carabinieri Sulmona piante di marihuana nella serra restata coppia di ventenni il blitz dei carabinieri l'accusa è quella di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti sempre a Sulmona ospedale manca l'acciaio lavori fermi il tribunale del malato questa pausa rischia di ritardare la consegna prevista a marzo 2017 e in breve ancora piazza Tresca abbattuta l'asta della bandiera chieti allarme legionella al policlinico test sui pazienti e maxi bonifica il batterio trovato nei rubinetti e nelle urine di un paziente un vademecum vieta le docce l'acqua deve scorrere dieci minuti intervento disposto dal direttore generale dopo le analisi fatte appunto dall'arta parcheggi il movimento 5 stelle contro la giunta atto da incompetenti e ancora l'indagine il pirata della strada alle ore contate e un'auto grigia le spine vediamo Teat Servizi chiesto un cambio di passo e la piscina bando per le assunzioni ancora la polemica disabili trasferiti Flacco erano senza assistenza e poi il caso si allarga lo sciopero del panino protesta anche alla scuola Cellit per il caro Mense 35 bambini portano il pranzo da casa città del futuro verde e meno traffico lanciano i candidati sindaco svelano tutti i loro progetti rispondendo al questionario di nuovo senso civico nessuno svela la formazione della possibile giunta non sarebbe giusto rivelarla senza sapere l'esito del voto ortona ripascimento lido riccio in arrivo 80 mila euro agissi vertenza canali sale la tensione vasto campagna elettorale ultime 48 ore di fuoco ed ancora vasto sorprese a rubare gasolio tre arresti lanciano ancora trabocco turchino a giudizio dirigente ed ora teramo liste d'attesa lunghissime la caccia di soluzioni l'analisi di migale responsabile del cup paghiamo l'assenza di strutture private una soluzione temporanea può essere l'apertura nelle ore pomeridiane e serali eventi di crisi questa sera la resa dei conti in maggioranza Montorio si fingono medici per entrare in casa e derubano un'anziana dei gioielli e poi l'incontro vediamo il prefetto Patrizzi in procura per la sua prima visita istituzionale nel taglio basso il caso l'autopsia Galizia fu ucciso da un'insufficienza respiratoria e poi con tin rosso nel comune di Teramo c'è l'ipotesi del predissesso come abbiamo visto vediamo Roseto candidati in campo sui migranti arrivati in città altri 50 richiedenti asilo in totale sono 162 di Girolamo utilizziamoli per i lavori socialmente utili oggi il sottosegretario Nencini a sostegno della ciancaglione che incontra i costruttori e gli imprenditori del settore turismo e Roseto oggi e domani riapre l'iniziativa bicicletta ad Albadriatica invece vediamo mercatini nuova polemica commercianti comune il chiarimento Giulianova sorpresa scoppia la pace per I love shopping sempre a Giulianova denunciati e rimpatriati undici romeni che si erano barricati come abbiamo visto in una costruzione diroccata vicino alla stazione e sempre a Giulianova via Leorsini sarà messo in sicurezza in breve invece vediamo Tortoreto subito in campo la prima lista e passando alla pagina sportiva vediamo in apertura quindi Pescara obiettivo finale stasera 20 e 30 all'Adriatico gara di ritorno di semifinale appunto si parte con due gol di vantaggio ma niente cali di tensione Oddo vietato gestire la gara dobbiamo giocare per vincere l'euforia è positiva ma la squadra sa che non è ancora finita e gli avversari vabbè dopo li vediamo intanto in difesa dubbio tra Campagnaro e Zuparic Memushai giocherà l'eventuale finale solo all'andata e sulla gara di stasera possiamo ascoltare direttamente il contributo video mister De Biassi ha bisogno di fare un amichevole probabilmente farà un tempo il tre e poi tornerà quindi certamente sarà con noi per la semifinale per il ritorno o no invece? no il ritorno domani dobbiamo entrare in campo facendo la nostra gara come avevamo sempre fatto poi se Novara non ce lo consentirà useremo altre armi ma noi entreremo certamente in campo non per il pareggio non per perdere 1-2-0 ma entreremo in campo per vincere se cambierò qualcosa non è un turn 9 se cambierò qualcosa è perché ritengo che altri giocatori possano in una partita di domani essere più utili ma turn 9 non esiste Novara ha una sua precisa filosofia di gioco sua precisa identità ed è un pregio questo perché al di là poi dell'essere del piacere o non piacere ci sono tante filosofie nel calcio che portano ai risultati ma una cosa è certa che il Novara è una di quelle squadre che ha una precisa identità e quindi come le nostre armi sono il fraseggio la palla a terra la verticalizzazione quelle del Novara sono altre altre qualità che sfrutta sempre bene poi nell'ultima partita siamo stati bravi noi a non a non concedere ma sono le loro armi ma che ci sia nell'ambiente nei tifosi nei mass media e quant'altro ne sono contentissimi ne sono contentissimi ragazzi anzi più ce n'è meglio è i tifosi possono essere euforici quanto vogliono il problema è se euforici troppo lo sono i miei giocatori i miei giocatori non devono essere euforici devono essere belli carichi umili consapevoli che che fino a domani a fine partita il turno non si è passato ma dobbiamo continuare sulla strada della partita di andata e quindi vediamo ancora l'avversario come detto prima Baroni che rilancia non molliamo e ci proviamo fino alla fine così il titolo ma ascoltiamo direttamente le parole del tecnico appunto del Novara Baroni no di sistema di gioco no sicuramente qualcosa nell'undici iniziale cambieremo ma anche un po' per il tanto c'è il rientro di Dicma alcuni giocatori che hanno comunque in queste ultime due gare dato molto insomma vediamo qualcosina però cambierà poco la cosa importante è chiaro che sappiamo che il risultato dell'andata ti penalizza tanto però dobbiamo essere anche convinti di andare a fare una partita vera da parte nostra ma guarda ha visto a volte prepari le partite come è successo questa in casa e poi dopo escano un po' fuori per le condizioni climatiche un po' per alcune situazioni che si vengano a creare in campo è difficile in queste partite vi abbiamo anticipato bisogna sbagliare poco o niente e poi sulla base di quello fare la gara noi dobbiamo comunque rimanere noi stessi nel senso della compattezza della tenuta di squadra andando a cercarci qualcosa con grande convinzione e determinazione perché ripeto ci abbiamo 90-95 minuti davanti dove possiamo riaprire la partita ed ancora col calcio di serie B Magliulo Virtus fondamentale vincere sabato sera poi giornata alla sentenza del CONI ottenuta l'agibilità per i distinti vediamo il calcio di Lega Pro la crisi dell'Aquila si dimette Mancini darò comunque una mano a chiodi ha detto però non meritiamo questo trattamento senza di noi non ci sarebbe futuro e poi il basket di serie B un amatore d'acciaio sbanca Montegranaro 66-69 e pareggiano la serie venerdì intanto è prevista gara 3 basket a 2 controlli ok per il Roseto oggi parte l'iscrizione e poi infine calcio Giulianova è già svanito il sogno dell'eccellenza e con la pagina sportiva termina l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione